Aurelio Arena, Luciano Bonaccorso, Toni Bongiovir, Rosario Cantone, Giuseppe Ciaccio, Vincenzo Crapanzano, Totò Di Marca, Ferdinando Di Matteo, Federica Grisafi, Giacomo Marciante, Roberto Masullo, Maglio Montalbano, Vincenzo Sabella, Eugenio Sclafani e Lucia Stefanetti. Sono gli artisti che saranno protagonisti della mostra che sabato prossimo sarà inaugurata al Circolo di Cultura di Sciacca, un'iniziativa che rientra nel progetto avviato nei mesi scorsi per il cinquantesimo anniversario della morte di Filippo Bentivegna, realizzato in collaborazione con la cooperativa Agora. A confronto con l'Art Brut, questo il titolo della mostra. Questa volta saranno 15 artisti, è una collettiva perché con la collaborazione della cooperativa Agora, quindi del Castello Incantato, abbiamo fatto questo lungo percorso dall'inizio dell'estate fino ad ora a chiudere in un certo modo questo anno dedicato a Filippo Bentivegna. E quindi ci sarà una collettiva con 15 artisti che hanno proposto, proporranno sabato pomeriggio alle 18.30 le loro opere che sono installazioni, sono anche dei quadri con varie tecniche e anche delle ceramiche. Quindi un misto di artisti nostri, molti sono giovani, abbiamo voluto dare anche questo spazio a tanti giovani, così come abbiamo avuto la personale prima di Leonardo Fisco e inizialmente invece i lavori fatti dai nostri ragazzi del liceo artistico. Quindi abbiamo voluto dedicare come circolo e insieme alla cooperativa Agora questo anno di ricordo di Filippo Bentivegna per il cinquantesimo della sua morte, proprio perché è un artista che è diventato un'icona per la nostra città e ricordiamo che il Castello Incantato è il sito più visitato dopo i templi di Agrigento, quindi merita un'attenzione. Per quali ragioni c'è l'esigenza di valorizzare un artista come Bentivegna? Intanto perché era stato bistrattato per tanti anni e poi diciamo grazie agli studi e alla valorizzazione che è avvenuta da tanti uomini di cultura della sua arte, chiamata Art Brut, diciamo che avere questo sito nella nostra città è un punto di forza dal punto di vista culturale, artistico e quindi merita un ricordo. La mostra di qui sabato, che noi inauguriamo sabato, è una mostra che vuole mettere a confronto l'art brut di Filippo Bentivegna con i nostri artisti e il titolo della mostra è A confronto con l'art brut. Fino a quando resterà in esposizione? Allora la mostra resterà in esposizione fino al 22 di novembre per una ragione molto ben precisa perché noi nella rassegna che facciamo il 19 di novembre avremo Nicola Puleo che leggerà un monologo dedicato a Filippo Bentivegna, quindi sarà circondato dalle opere di questi nostri artisti e lui racconterà di Filippo.